Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con un ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più aiuti, bentornati a GIOVISPO Io sono GIOVISPO e questo è un altro video dell'estrazione del contesto a 100.000 crediti FUTU 14 PS3 e PS4 Allora, state vedendo i commenti, vaffanculo mi da sempre quell'errore, ok vabbè Dopo lo rimetto, anzi facciamo così, ok Allora, contesto a 100.000 crediti, estrazione, vedrete ora l'estrazione dal vivo, direttamente Ecco, questo video si riparte, ci sarà il terzo contesto a 100.000 crediti Dunque, i numeri sono, erano, dovete commentare da 1 a 400, ormai sapete bene le regole comunque E chi ha già vinto non potrà rivincere il contesto, quindi avete vinto una volta, buon per voi Voglio far vincere molte più persone, altre persone Dunque, da 1 a 400 ci sarà un bel po' da aspettare 237 237, allora 227, peccato 237, 200, niente Continuiamo Vai, 159 159, 159 Abbiamo trovato subito Hai vinto il contesto da 100k Contattami qui o su Facebook per ricevere il premio Dunque, ha vinto Come si chiama? Matè 1599 Dunque, lui ha vinto il contesto ed ora vi appariranno le regole per il contesto numero 3 Intanto rispondo pure a posto, perfetto In un altro contesto da 100.000 crediti per partecipare, essere iscritti al canale Dovete mettere mi piace al video Condividere il video dove volete su Twitter, Google+, dove volete voi Puoi scrivere partecipo con un numero da 1 a 400 Quindi, ripeto Mettere mi piace al video Condividere E scrivere partecipo con un numero da 1 a 400 Dunque, l'estrazione la farò fra 24 ore E rimanete sintonizzati sul canale Ciao!